Chi è Margherita Huck? Margherita Huck è una grande persona, una persona eccezionale, è una strepitosa divulgatrice di scienza. Non è facile spiegare con la semplicità con cui riesce a farlo lei cose complicatissime, mostruosamente complicate. Riesce insomma a rendere tutto intellegibile, chiaro, anche per i bambini. Perché la si ama tanto? Probabilmente per la sua semplicità e per il fatto che nella sua vita ha fatto delle cose estremamente importanti per la scienza, per il mondo, non soltanto per la sua Trieste, con l'osservatorio che ha diretto e via dicendo. Ha fatto tantissime cose, ha scritto tanti libri. Ripeto, per me la cosa fondamentale è la divulgazione, la grande divulgazione della scienza di Margherita Huck. Quali sono le battaglie che hai condiviso con lei? Battaglie condivise? Beh, devo dire che amiamo alla follia gli animali e quindi ci accomuna anche questo. Ma anche il senso dell'umorismo ci accomuna, perché lei è una tipa sanguigna, da vera toscana e un personaggio secondo me con grande senso dell'umorismo. E meno male.